In località Gulfa oggi è stato il giorno del tanto atteso arrivo dell'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino che ha incontrato agricoltori ed allevatori del movimento spontaneo che dal 5 febbraio scorso sono presenti in questa contrada con un presidio permanente. Sono qui per raccogliere il grido d'allarme degli agricoltori. Il governo regionale sta lavorando su diversi fronti, ha detto l'esponente del governo Schifani. Oggi a grande difficoltà, dopo un decennio di crisi di mercato, il governo cerca di affrontare insieme al governo nazionale la grande emergenza. La scorsa settimana insieme al ministro Lollo Brigida ho chiesto di raccogliere il grido d'allarme degli agricoltori siciliani. Lo faccio oggi alla Gulfa, lo farò più tardi con i movimenti in piazza Indipendenza davanti al palazzo d'Orlean. Il lavoro è incessante in un anno in cui anche le precipitazioni scarse hanno creato quel cambiamento climatico che purtroppo è sotto gli occhi di tutti e che ha responsabilizzato il governo commissariandolo per l'emergenza idrica. Stiamo lavorando su più fronti soprattutto per cercare di garantire la qualità della produzione ma soprattutto per accompagnare in questi anni complicati la produzione siciliana. Accanto agli agricoltori abbiamo messo una serie di interventi grazie anche al programma operativo nazionale ma mi auguro che il governo nazionale ci venga incontro. Nel concreto loro ad esempio chiedono la possibilità della indicazione del prezzo alla produzione e di quello al consumo perché lì c'è una grande differenza che va a danno degli agricoltori. Ma questa è una tematica che sta affrontando l'intero paese, una tematica che va approfondita insieme alla Commissione europea ma soprattutto a quella che deve essere una scelta che la comunità europea deve approntare per gli stati membri. È chiaro che non è una tematica di carattere regionale ma su questo troveranno a fianco ovviamente il governo della regione sui tavoli nazionali ed europei. Governo della regione impegnato anche nella predisposizione di misure straordinarie per aiutare gli agricoltori in un periodo tra l'altro di gravissima siccità. È chiaro che il governo regionale sta lavorando a una misura straordinaria per una variazione di bilancio che il presidente della regione Renato Schifani vuole approntare a sostegno del comparto agricolo. I fondi sono un primo iniziale intervento che la giunta di governo ha già stanziato, non basteranno. È chiaro che al governo nazionale abbiamo dichiarato e chiesto lo stato di emergenza nazionale. All'assessore regionale all'agricoltura abbiamo chiesto anche notizie sull'ago Arancio alle prese con il grave problema dell'inquinamento da Algarossa. Il lago Arancio è tema che il collega Di Mauro sta affrontando. Mi auguro che le nuove analisi sull'acqua potranno riportare la serenità anche degli agricoltori che hanno bisogno di quel beneficio irriguo. Il tema dell'Arancio è anche un tema che stiamo affrontando in maniera collaterale come assessore regionale all'agricoltura insieme al commissario Cartabellotta, così come tutti gli invasi qui nell'Agrigentino. Di recente abbiamo sbloccato la vicenda del castello Gamma Nauta perché serve oggi dare una risposta immediata. Consentitemi di dire una risposta che forse doveva arrivare oltre un ventennio fa. Ed è soddisfatto il portavoce del movimento spontaneo di agricoltori e allevatori della Valle del Belice, Gaspare Lamarca, innanzitutto per la partecipazione all'incontro di oggi. Siamo soddisfatti perché c'è una bella, bellissima appulenza. La gente ha risposto, gli agricoltori, anche altre classi lavoratrici sono venute per l'evento di oggi. Voi volevate fortemente la presenza dell'assessore San Martino, cosa rappresenta questo momento? Ecco, la presenza qui di un rappresentante del governo regionale che avete chiesto con tanta insistenza. Ma rappresenta, diciamo, la risposta a questa protesta pacifica e democratica del presidio Culfa. Io, come ho già detto in altra occasione, l'onorevole San Martino ha fatto un atto di responsabilità istituzionale e un gesto di buonsenso. Per noi rappresenta ora l'interlocutore non solo per le istituzioni regionali, di cui si farà carico per ciò che è di competenza del governo regionale, ma dovrà farsi carico anche e portavoce per le istanze che sono di competenza del governo nazionale e del governo europeo, del Parlamento europeo. Movimento spontaneo che ha consegnato nelle mani di Luca San Martino un documento contenente 18 richieste, prima fra tutte il riconoscimento di un reddito dignitoso. Siete qui dal 5 febbraio, pensate di continuare ad andare avanti? Sì, noi continueremo con il nostro presidio. Ovviamente su quello che oggi abbiamo presentato all'assessore saremo attenti vigili nel monitorare quello che abbiamo richiesto. Dopodiché agiremo in funzione anche delle risposte e di quello che verrà attuato in funzione di quello che oggi noi abbiamo chiesto.